La scuola estiva di dottorato organizzata dall'Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica che ha sede a Uniser per quattro giorni ha riunito 27 dottorandi e giovani ricercatori provenienti da tutta Italia. Secondo passaggio molto significativo delle attività di Uniser attraverso questo centro CARME che è il centro per la ricerca avanzata in didattica della matematica. È una scuola nazionale di dottorato che per la prima volta si svolge a Pistoia, siamo molto onorati di questo, che utilizzando le strutture speciali che Uniser mette a disposizione per questo e che riguarda una fascia significativa di studenti e studentesse, dottorandi, giovani ricercatori, insegnanti ricercatori che trovano in questa scuola alimento, motivo, conoscenze, formazione, discussione per quello che riguarda il loro futuro di insegnanti o di ricercatori in quest'area così delicata la didattica dell'apprendimento della matematica. La scuola raccoglie studenti da tutta Italia, dottorandi e magari giovani studenti che hanno appena finito il loro percorso di dottorato. Questa scuola è dedicata alla problematica delle domande di ricerca e le problematiche di ricerca. Come si fa a arrivare a costruire una buona domanda di ricerca e argomentarla e impostare insomma uno studio per poterla esplorare. Abbiamo appena finito di presentare un esempio di ricerca che è un progetto che è appena stato finanziato, un progetto di interesse nazionale come esempio di successo, diciamo, dopo tanti anni in Italia di ricerca finanziata in didattica della matematica dal Ministero. Qual è l'importanza di avere un laboratorio come questo per lo studio della didattica? Penso che sia fondamentale. Noi abbiamo degli esempi nel mondo precedenti e confrontandoli con questo direi che la struttura che ho visto è eccezionale. Questa è la sala regia che praticamente tutto quello che fanno gli studenti viene monitorato? Viene monitorato ciascun gruppo di studenti e poi è possibile identificare un gruppo che sta lavorando in maniera particolarmente interessante e allora le telecamere ci consentono di fare uno zoom sul gruppo e di catturare quindi l'attività di quel particolare gruppo in modo più puntuale.